Ciao a tutti da TomClaneC90 e oggi qui per otto Snake Wars ho scelto questo gameplay fatto sulla nuova mappa Downhill uscita il 29 gennaio con il DLC Revolution di Black Ops, ovviamente stiamo parlando e oggi vi porterò una specie di impressioni che ho avuto su questo DLC di Black Ops 2, che dico subito una premessa, è molto bello, molto ben fatto il livello del design delle mappe, sono fantastiche posso dire subito che è la mappa Hydro, perché io parlerò in questo video soltanto delle mappe multiplayer, magari il futuro sia proprio un po' successo con questo video qui potrei anche ritornare con un'app DieRise, in un gameplay live ovviamente, e oggi vi porto l'impressione che ho avuto su queste quattro art.it, perché sono ovviamente un po' l'essenziale dei DLC perché dei DLC di Black Ops, partendo anche da World War, Black Ops 1 e Black Ops 2, perché io sinceramente la modalità zombie ci gioco ma non proprio così tanto e quindi non sono uno che ama particolarmente tanto zombie, anche se sono belle ma non è proprio la mia modalità preferita e gioco tanto su multiplayer, infatti oggi qui ho portato queste impressioni che sono positive e vi racconterò un po' come sono fatte queste mappe qui allora partiamo dalla mappa che state vedendo ovviamente e poi passare alle altre mappe, cioè Hydro, poi cosa c'era? Sì, Mirage e poi l'ultima mappa che è Grind, che è il conto della mappa di Black Ops 1 e che è il nome simile, è ambientato totalmente da un'altra parte allora cominciamo con la mappa Downhill, allora la mappa Downhill è ambientata principalmente in Francia possiamo dire subito perché appena parte la partita si vede a Francia, albi nelle Alpi francesi comunque e devo dire che è una mappa davvero con le medesine fantastico, soprattutto per il fatto che state vedendo adesso delle funivie che, funivie o ovovie come si chiamavano, io mi ricordo che si chiamavano ovovie, ovviamente e sono, è una mappa davvero difficile anche perché con questo ovovie in mezzo è sempre complicato perché comunque le ovovie possono anche essere un ostacolo per uccidere un nemico infatti molte volte se voi tenterete a uccidere un nemico che tipo sta lì su quella casetta lì e passa una funna o via non potete uccidere perché i colpi non trapassano, non trapassano, che terzo, non trapassano l'ovovie ma si bloccheranno e quindi è come un muro che continua a girare e rappresenta anche una difficoltà perché dovremmo anche stare attenti se andremo sul percorso a controllare se le ovovie ci arriveranno ci arriveranno addosso e infatti moriranno a volte in questo gameplay qui per colpa delle ovovie perché certe volte è una cavolata, vi bloccano le ovovie, non è che riesce a scappare in tempo allora sei morto praticamente, non c'è neanche il modo per sopravvivere cioè io l'ho provato ovviamente in una partita non pubblica ma in una personizzata a tipo a mettere in basso ma l'ovovie ti uccide sempre, è impossibile, cioè non c'è metodo per riuscire a sopravvivere e forse questo è il problema di questa mappa qui comunque è una mappa fantastica, mappa davvero ottima, davvero ben fatta passiamo alla mappa che invece non mi ha proprio convinto pienamente anzi ci sono rimasto male, ho detto qua, a moglio, avete visto come si muore da una sefoni via, ovovia e comunque parlando della mappa Grind, no Grindhide scusate è una mappa davvero che a me non mi è piaciuta tanto, non mi è proprio piaciuta anche se il fatto che c'è quella specie di cascata, cioè una cosa artificiale poi sembra buona, a me non mi è piaciuta anzi è davvero un'app che io detesto, non mi trovo bene il livello design è meno, 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 meno delle altre, comunque è sempre livelli buoni non è proprio un'app ADM, ma io sinceramente col mio stile di gioco non mi trovo bene, ho qualche difficoltà magari anche a fare uno score normale cioè io tipo faccio score normalissimi, io sono un player normale, non faccio score della madonna 100 kg o 200, io sono uno che si fa una sua partita e basta e mi diverto, o almeno cerco di divertirmi anche se qualche volta è davvero impossibile comunque parlando della mappa Hydro, non mi è piaciuta, non mi ha convinto proprio e mi dispiace perché, scusate un po' perché c'è un po' di mal di gola dal trailer che abbiamo visto mi sembrava anche la mappa migliore di DLC Revolution invece è arrivato davvero un fallimento un buco nell'acqua e ora passiamo anche alla prossima mappa che è Grint che invece è quella che mi ha sorpreso di più perché sinceramente dai trailer non me l'aspettavo così bella e quando esce mi diverto perché è un'app davvero ben fatta soprattutto se giocate in dominio, infatti vi consiglio di giocare in dominio e vi do anche dei consigli se voi volete, quando giocate in dominio, ve la consiglio soprattutto in dominio perché è la modalità in cui mi sono trovato meglio con questa mappa che ho provato a deathmatch, postazione, ci sono confermata, non mi sono piaciuto ma con dominio facevo punti a manetta perché? perché se voi prendete, adesso non voglio dire una cavata se voi prendete C e B, riuscite a fare degli spawn kill della madonna perché praticamente tutti i nemici tendono ad andare tutti verso B soprattutto in dominio, tutti i nemici tendono ad andare verso B e mettersi intorno alle finestre che ci sono lì per sparare ovviamente quelli che ci sono lì e prendere B ma voi dovete sentire i genti e fare due giri perché ci sono due possibilità o fare il giro dove c'è la half pipe o fare il giro normale e non farci caso anche se certe volte è difficile perché i nemici molte volte tendono a comunque anche loro sono bravi, qualcuni, non tutti anche loro ha da girarti quindi bisogna fare attenzione ma se voi beccate la squadra che non è nabba totale riuscite a fare davvero delle stragi della madonna ovviamente però bisogna stare attenti perché se voi la girerete dovete sempre controllare che dietro non ci arrivi qualcuno e quindi il problema è quello lì comunque è grande un'app anche con level design fantastica questa qui ovviamente è anche bella perché i sviluppatori, credo, dell'Activision, della Trayer scusate e delle sviluppature che visto che hanno fatto un'app con tutte queste curve half pipe, cavolate varie, salti, tutte robe hanno anche dovuto non inventare un motore fisico ovviamente quello per una mappa hanno visto che le granate se lanciate sulle half pipe cambiano direzione hanno dovuto anche calcolare i modelli anche fare una fisica molto buona per questa mappa qui perché ovviamente se vogliono fare una mappa con gli skatepark uno skatepark dovevano calcolare tutti gli half pipe ed è infatti una buona cosa infatti molte volte si fanno killassure tipo tu mi lanci una gatta al cavolo grazie alle curve magari ci sono tre nemici e riesco a fare una tripla, è una cosa buona ovviamente anche se certe volte vuoi essere fastidiosa perché è davvero un po' difficile comunque una cosa che mi piace del grind è che tendenzialmente visto un half pipe e visto anche con i personaggi di Black Ops 2 e il movimento certe volte si dà l'impressione che i personaggi siano a mezz'aria cioè non sono attaccati completamente ed è un po' il problema, è un po' anche il problema di questa mappa qui anche se comunque è un'app bellissima e ci trovo bene e passiamo all'ultima che è quella che boh mi piace ma non la considero un'app adatta a me perché mi regge che è un'app giocata in dominio e un casino ma proprio casino casino con la proprio tutta maiuscola perché giocando in dominio, io ho giocato sempre in dominio e forse qualche volta in deathmatch uccisione confrata perché io mi trovo bene in dominio e così via e giocando in uccisione in dominio scusate e i nemici c'è questa triangolazione delle mandiere perché se voi fate caso è un triangolo è davvero complicato perché non è che come tutte le mappe di code c è da un lato, a è dall'altra e b e mezzo no, è un triangolo è della prima volta forse non mi ricordo forse è stata anche un'altra mappa adesso non ricordo un'altra mappa che è da questo tipo di triangolazione è una cosa davvero devastante, allucinante perché tu parti con la partita e tu prendi CA e subito un nemico ha preso B oppure tu hai preso A tutto un casino e gli spawn cambiano molto facilmente infatti il consiglio che posso dare a a coloro che giocano a mi rage è di prendere tutte e tre le bandiere perché gli ho solito prendendo tutte e tre le bandiere di mi rage ho notato che gli spawn nemici cadranno solo in un punto quindi vi do un consiglio ragazzi cercate di prendere tutte e tre le bandiere non subito ovviamente ma se riuscite prendere e soprattutto a difendere però bisogna fare attenzione perché lo spawn terminato su una parte è limitato credo che calcolando perché ho provato a fare anche con lo mio amico con il cronometro il tempo di cambio degli spawn è circa un minuto e mezzo e quindi un minuto e mezzo e tutti i nemici spawnano da un'altra parte il consiglio che vi do se voi giocate in gruppo ovviamente vi sparo di gruppo perché io certe volte gioco con i miei amici se voi giocate in gruppo è di fare attenzione e di avere le vostre ricompense o un uomo o un bisatto orbitale certo per quelli che vanno alti un bisatto orbitale per quelli che stanno bassi un po' come me anche se certe volte vado per il bisatto o anche per lo sciame è quello di avere una ricompensa sempre per localizzare i nemici perché se voi state facendo stragi attenzione perché c'è sempre il tempo un minuto e mezzo adesso non voglio dire una cavolata ma ho calcolato come un mio amico e quindi è abbastanza difficile e cambiate velocemente lo spawn un minuto e mezzo quindi ragazzi se voi tentate di fare spawn kill fate attenzione perché lo spawn cambiano un minuto e mezzo è tanto un minuto e mezzo quindi ci potete chiamare tutto quello che volete e inoltre le armi che vi consiglio su mi rage sono le mitragliette o anche i fucili a precisione ho provato prima ovviamente sto registrando che il 10 questa partita l'ho fatta un giorno fa ho provato prima col check-in e mi trovavo davvero bene perché è molto verticale questa mappa qui quindi per i check-in è anche facile appostarsi in varie punti in la mappa molto elevate i nemici non ci fanno caso perché c'è anche la sabbia quindi è un elemento molto buono anche per minutizzarsi nella mappa è un vantaggio soprattutto per i check-in anche come la mappa che state vedendo per i check-in anche lì visto che qua c'è la neve la prima volta nella mappa di black ops 2 che c'è la neve novità non tanta perché anche in black ops 2 c'è tutta sta neve anzi tre quarti di mappa era sulla neve comunque comunque ragazzi per queste piccole impressioni per queste impressioni che ho avuto su black ops 2 avrò giocato tanto il video sta finendo mi raccomando di lasciare un mi piace di magari passare a vedere il canale ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti